Bonjour, oggi parliamo delle preposizioni articolate, les articles contractés avec les prepositions A, DE. Les articles contractés sono gli articoli contratti, cioè le preposizioni articolate in francese e si formano a partire dalla preposizione A oppure dalla preposizione DE. Quelle che si formano a partire dalla preposizione A sono O, A, L' e O, X e quelle che si formano a partire da DE sono DU, DE LA, DE L' e DE. Queste corrispondono alle preposizioni articolate italiane che si formano a partire dalle preposizioni semplici A e DI e DA e sono tutte quelle che che vediamo qui a destra. Quindi AL, ALLO, ALLA, AL con l'apostrofo, AI, AGGLI, ALLE e poi DEL, DELLO, DELLA, 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 DAI, DAGLI e DALE. Andiamo a vedere come si formano e quando si adoperano. Come lo dice il nome stesso, preposizione articolata significa preposizione più articolo, quindi preposizione semplice più articolo determinativo. A più IL da AL, DA più LE viene DALE, in italiano o in francese A più LE diventa O e DE più LE diventa DE. Le preposizioni vanno accordate con il nome a cui si riferiscono in genere il numero, esempio al maschile singolare allo stadio, in francese au stad, femmine singolare della casa, in francese de la maison, maschile plurale ai giardini, in francese au jardin e femminile plurale dalle scuole, in francese des écoles. Questi sono soltanto alcuni esempi perché come abbiamo visto in italiano ce ne sono tantissime di preposizioni articolate. In francese ce la caviamo con otto. Andiamo a vederle. Allora, questa è la panoramica delle nostre preposizioni articolate in francese. Andiamo a vedere quando si adoperano, quali sono per il maschile singolare, femminile singolare e per il plurale. Allora, al maschile singolare abbiamo O e DU, al femminile singolare abbiamo ALA e DELA e poi abbiamo anche la forma AL con l'apostrofo e DEL con l'apostrofo che si adoperano davanti a dei nomi maschili o femminili singolari che iniziano per vocale o H muta. Al plurale abbiamo una sola forma che è O per quanto riguarda le preposizioni articolate a partire dalla preposizione semplice A e una sola forma per la preposizione articolata a partire dalla preposizione semplice DE. Dunque, in francese abbiamo otto preposizioni articolate tra quelle che si formano con A e quelle che si formano con DE di cui quattro sono forme contratte O, DU, O e DÈ mentre le altre AL apostrofo, DE L con l'apostrofo, ALA e DELA derivano semplicemente dal fatto che sono messi uno accanto all'altro la preposizione semplice e l'articolo determinativo. Come dicevamo, O, O, DU e DÈ sono le forme contratte per cui io non troverò scritto e non dirò A LE PARC ma EL VA AU PARC così come non si dice TU VA A LE TOALETTE ma AU TOALETTE e per quanto riguarda IL DU non si dice EL VIEN DE LE PARC ma DU PARC E TU VIEN DE LE TOALETTE assolutamente no, E TU VIEN DE TOALETTE Attenzione alla pronuncia di O e DÈ quando si trovano prima di un nome che inizia per vocale a camuta dobbiamo fare la liaison tra la preposizione articolata e il nome stesso quindi diremo O ZOM DES ECOL qui trovi uno schema che riassume le preposizioni semplici DE e A a partire dalle quali si formano le preposizioni articolate DU, DE L'A e DÈ a partire da DE e O A L'A e O a partire da A e qui è indicato quando vengono utilizzate qui sotto ci sono degli esempi TU A COMPRÌ ABBIAN TU